Buonasera, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con HV24, è già ora di scendere in campo per il Verona perché dopo l'importante vittoria ottenuta martedì al Bentegodi contro lo Spezia, sabato ci sarà un altro appuntamento per i gialloblure nati da mister Fabio Grosso impegnati in un campo difficile ovvero la Recchi di Salerno contro i padroni di casa della Salernitana che provengono da un pareggio per 1-1 ottenuto nell'ultima partita contro l'Ascoli andiamo a sentire proprio cosa ci ha detto mister Fabio Grosso a riguardo alla partita di domani Il Verona sta impressionando anche per l'autorità che mette in campo perché magari va in svantaggio ma non si scompone poi rimonta come si è visto oppure sceglie ai tempi giusti per andare ad attaccare, vuol dire che sta crescendo per davvero? Stiamo lavorando per diventare più bravi di come siamo, le qualità dei giocatori le conosciamo tutti e come ci siamo sempre detti non bastano se non vengono messe insieme noi stiamo provando a lavorare per riuscire a conoscerci, per riuscire a fare il più possibile le cose che cerchiamo di fare e di farle insieme perché sono convinto che facendolo in questo modo riusciamo a diventare migliori di come siamo adesso e questo il lavoro ce lo dà, ce lo dà la continuità di provare e riprovare le cose che facciamo in allenamento ma soprattutto le caratteristiche che sono alla base per poter migliorare che sono quelle di grandissima disponibilità rispetto a tutti gli avversari che si incontrano e grande umiltà nell'affrontare ogni partita perché senza queste caratteristiche le qualità servirebbero a ben poco Salerno per noi è un altro campo storicamente difficile però si è riuscito a sfatare il tabù crotone se tanto mi da tanto Una partita difficile, complicata, un avversario che viene da un risultato negativo fuori casa ha rifatto un risultato positivo in casa e sicuramente avrà voglia di saltarci addosso, di essere protagonista di mettere la partita sotto l'aspetto dei ritmi alti, dell'intensità e noi dobbiamo essere prontissimi sotto questo punto di vista a saper controbattere, a saper fare partita piena perché ovviamente la squadra che incontreremo avrà dato l'incitamento di tanti tifosi, vorranno fare un'ottima partita per ripartire perché prima di questi due risultati avevano fatto un ottimo incontro in casa dominando un avversario e noi conosciamo questo avversario che ha delle ottime potenzialità, che ha delle individualità di livello che ha anche tanti cambi perché l'ha dimostrato facendo giocare formazioni diverse non conosciamo benissimo qual sarà la modalità con cui ci affronterà però sappiamo bene quelle che sono le caratteristiche che ci aspetteranno e la bravura nostra deve essere quella di farci trovare pronti e provare a andare a fare la partita che sappiamo fare giocando a calcio quando sarà possibile farlo resistendo agli assalti degli avversari quando ci sarà da resistere però sono convinto che mettendo dentro le nostre caratteristiche sarà una partita che sicuramente è difficile ma che dovremo in tutti i modi cercare di fare nostra L'ultima volta che siamo stati a Salerno ci siamo andati con le guardie del corpo tu in campo ne hai una, si chiama Pavel Davidoviz, giocherà Credo che ha le caratteristiche di poter essere presente in questa partita non ho ancora deciso bene chi saranno i giocatori che scenderanno in campo però al di là di chi saranno i nomi degli undici saranno determinanti i nomi dei tre che entreranno e altrettanto importanti quelli che non saranno della partita perché noi dobbiamo essere in grado di saper affrontare questo avversario che ha dalla propria tante armi oltre all'entusiasmo del pubblico di casa che possono aiutarli però io credo che tutti insieme noi siamo in grado di fare una grandissima partita anche a Salerno Abbiamo ascoltato le parole del mister andiamo anche a vedere come sarà Salernitana e la Saverona attraverso numeri di curiosità partendo dall'arbitro arbitro che sarà il signor Aureliano della sezione Aia di Bologna con il Verona 5 precedenti totali, 3 vittorie un pareggio ed una sconfitta l'ultimo precedente risale all'11 marzo 2017 quando a Brescia vissero i gialloblu con rete di Zaccagni con la Salernitana invece ben 9 i precedenti dell'arbitro di Bologna 4 vittorie, 4 pareggi ed una sconfitta l'ultimo precedente risale all'11 marzo 2018 quando la Salernitana vinse contro l'Avellino alla Recchi per 2-0 una partita, lo abbiamo detto, dalle tante curiosità partiamo come sempre dai precedenti che in Serie B fra le due squadre sono 36 l'ultima volta era il 4 settembre del 2016 quando alla Recchi, l'ultima volta alla Recchi logicamente quando appunto nello stadio dei padroni di casa terminò 1-1 sarà la prima volta alla Recchi di Salerno anche per Riedermatos, uno dei protagonisti della sfida di martedì contro lo Spezia un assist e un gol, il primo stagionale per l'attaccante gialloblu andiamo ad ascoltare come appunto Riedermatos ci ha presentato la partita di domani domani per il Verona è un match molto difficile in un campo difficile, quello di Salerno come dovrà scendere in campo l'Ellas? Sì, sì, sappiamo che lì è tosto come un po' calorosi i tifosi come era Crotoni sappiamo che sarà una partita dura e difficile però siamo fiduciosi, secondo me daremo di tutto per portare a casa la vittoria Facciamo un salto fuori dal campo momento importante perché sono stati premiati prima di Allas Verona Spezia i nuotatori, i protagonisti agli europei di Glasgow e agli europei paralimpici di Dublino 12 le medaglie in totali premiate prima del fischio inizio di Allas Verona Spezia appunto dal sindaco di Verona Federico Sboarina dall'assessore allo sport Filippo Rando era presente anche il presidente della commissione sport comune di Verona Stefano Bianchini insieme a tante altre personalità delle associazioni sportive del comune di Verona noi andiamo proprio a sentire tramite le parole di Stefano Bianchini l'importanza che sta assumendo sempre di più all'interno del mondo europeo all'interno del mondo sportivo proprio il comune di Verona Stefano Bianchini, responsabile commissione sport del comune di Verona stasera qui, importante per amare delle eccellenze anche se adottate veronesi del nuoto qui al Bentegodi prima di Verona Spezia ce ne sono adottate ma ce ne sono nostre come Luca Pizzini, come Xenia e Miscia Palazzo e che sono proprio di Verona come Stefano Raimondi che è sempre di Verona sì, ovviamente sono persone che hanno portato a Verona e alla Verona sportiva delle medaglie importanti nel nuoto negli europei di Dublino e di Glasgow logicamente Tokyo 2020 è vicino e speriamo tanto che ci portano ulteriori soddisfazioni Ed è un comune di Verona per chiudere che si prospetta nell'eccellenza dello sport moto, pallavolo, calcio insomma tanti sport nell'elite Beh, d'altronde 16 eccellenze nella nostra città fa capire quanto Verona è sportiva e quanto è importante lo sport per Verona noi dobbiamo proseguire su questa strada come amministrazione comunale e dare una mano sempre a tutte le società sportive e a tutti gli sportivi in generale Chiudiamo la parentesi dedicata alla prima squadra andando a vedere anche come è andato la prima edizione per questa stagione dell'HV Workshop il primo appuntamento di aggregazione con tutti gli sponsor che accompagneranno l'Ella Sverona nella stagione 2018-2019 andiamo a vedere nel servizio come è andata Grazie a tutti Erano presenti al Workshop anche quattro ragazze quattro calciatrici dell'Ella Sverona Women non scenderanno in campo questo weekend la partita originariamente in programma contro l'Orobica Calcio Bergamo è stata rinviata visti i tanti impegni delle nazionali le gialloblu allenate da mister Di Filippo scenderanno dunque in campo domenica 14 ottobre quando in via Sogare all'Olivieri Stadium arriverà la Roma tanti impegni invece per il calcio giovanile andiamo a riepilogarveli attraverso il programma scenderà in campo la primavera contro il Cittadella dopo la bella vittoria ottenuta in Coppa Italia per 3-2 appuntamento sabato alle ore 15 in trasferta appunto conto i Granata pareggio nella giornata di mercoledì degli Under 17 contro l'Inter per 1-1 a riposo l'Under 16 amichevole per l'Under 15 contro il Carpi mentre giornate di campionato per l'Under 14 che domenica alle ore 12.30 ospiterà la Liventina passando in più piccoli test match per l'Under 13 contro la Pro Sesto e per gli esordienti 2007 contro la Feralpi Salò sempre la Feralpi Salò per gli esordienti 2008 impegni per i più piccoli che per i pulcini 2009 così come per i pulcini 2010 sempre contro la Feralpi Salò è tutto per questa edizione di HV24 non ci resta che augurarvi un buon fine settimana grazie a tutti